bella raga ciao a tutti dal guendone veneziano allora fai purtroppo diluvio alla uno ring diciottesimo posto in griglia con doppietta mclaren non comincia bene il weekend della uno ring purtroppo previsioni metto per la gara almeno adesso è bello però dobbiamo fare una rimonta mostruosa dobbiamo sfruttare la partenza che di solito recuperiamo tantissime posizioni andiamo già in zona punti bella partenza buona dai pazzo crazy cube non ci credo siamo già quanti down the order into p4 that's p4 mentre nel ci chiude no va bene non ha senso la una delle partite più incredibili della storia come indiana e akinen non è primo godo potrei anche limitare i danni adesso vediamo il passo perché in qualifica disastroso ma c'era la pioggia però non sprechiamo sta un po di partenza raga potrebbe andare bene anche un terzo posto sia al chine finisce secondo però il neve vicino raga e la macchina non sembra esserci tanto oggi è una macchina non c'è mi sta bruciando anche il neve no non ci siamo beppe non ci siamo mi ha bruciato jacques jacques villeneuve ha fatto veramente un solpasso degno del giac del miglior jacques no no ritmo veramente scandaloso l'austria non è una gara favorevole non mi sembra essere stato male sempre in austria anche barichello ragazzi attenzione barichello lungo lungo barri lungo barri non è una bella notizia questa per la classifica costruttori porca miseria che devo vincere assolutamente per rimanere in ferrari no no ma io sto soffrendo con mi cassaro raga mi sembra di guidare malissimo non capisco perché la macchina è così lenta oggi non comprendo beppe mi sembra andare malissimo si vede che forse proprio oggi in austria non giro la macchina oggi l'auto vettura come si vuol dire non gira si si il battle è vicinissimo e ralph è in fuga sarà un miracolo tenere anche il quarto posto raga lungo lungo niente la macchina non c'è ragazzi non la tengo minimamente non la tengo minimamente oggi eh che disastro raga che disastro oggi non tengo minimamente vero 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 si si zero assoluto oggi zero assoluto per michael schumacher kume secondo me non vado neanche a punti oggi ma no ma chiunque è più veloce di me ovviamente anche la minardi di mazzacana è più veloce di noi oggi yellow flag yellow flag che orrenda sta gara ragazzi rulli fuori capisco sti alti e bassi della macchina però male 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 ma no mi supera chiunque ok buon pace carry on with the job you're doing disastro incredibile oggi della ferrari di schumi oggi il kume proprio non riesce a far girare la monoposto vediamo se piano piano lascio a trovare il ritmo ma la vedo duretta e si i primi sono in una fuga a dir poco devastante speriamo almeno la vittoria di kultar va stanno ancora spostando la macchina di trulli ah basta boom boom andata 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 no no ma zio che usci ciao we we've dropped disastro incredibile incidente spaventoso we've moved down to P18 in andata raga dopo la delusione austriaca torna la pole position con fisichella secondo ragazzi buona pole ovviamente un bel giro ok ne ha vinto anche l'anno scorso una gara favorevole dovevo riportare a casa la vittoria anche perchè riusciamo 4 punti di svantaggio shumi kube da akine ne abbiamo perso di nuovo la testa della corsa vediamo adesso piove sicuro per fortuna no ok raga ci becchiamo per la gara dobbiamo vincere andata 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 l'altro l'altro anno ho vinto con la jordan barichello diciottesimo attenzione per la costruttura di david kutad secondo david kutad concentration kube io occhio anche i drive thru che qua i drive thru sono pesanti ve li si rallenta anche i 2-3 secondi la macchina so cazzo che sono i kultard mmm kultard dietro non mi piace vediamo che non ci sarà nessun dominio la macchina è un po' calata eh di prestazione sento la torcida tedesco italiana mamma mia kultard è vicino ragazzi kultard purtroppo è vicino e mi tamponerà sicuro kultard mi sembra incredibile kultard subito subito kultard ragazzi sempre david kultard dopo sono io che tampono coraggio anche mi riprendo la posizione ma kultard è una merda cioè non può tamponarti ogni volta è andata è andata di lusso a entrambi c'era una gara difficilissima raga ok concentration cube c'è preso un piccolo vantaggio per fortuna no mamma mia eh la macchina non è però bilanciata come il solito è scorbutica è molto scorbutica faccio una fatica a tenerla in curva raga infatti perdo tantissimo nel terzo settore perdo anni nel terzo settore perdo anni nel terzo settore perdo in curva raga è grande qualcuno di trazione qua incredibile anche l'ultimo settore faccio una fatica devastante attenzione ancora kultard è Akiren secondo Akiren approfitta del duello con kultard Akiren secondo sarà un duello incredibile raga però loro tamponano eh vediamo quanto perde in sto settore vediamo quanto perde in sto settore non è appropriamente una macchina veloce nell'ultimo settore faccio veramente la tappo però eh mamma mia anche Akiren anche Akiren mi tampona ragazzi ufficiale raga faccio una fatica in curva devastante tanto Ralph Schumacher supera Akiren godo ma anche batto ragazzi gara pazzesca dietro meglio per me da che me ne vado ok ok Akiren non fa mai zero qual'è il problema è che batto mi sta rallentando ma in realtà batto è vicino no ragazzi anche batto incredibile grandissima gran sorpasso è brutta che esso qua oddio non ci credo batto è in testa e Ralph dietro dove cazzo è Akiren? anche Akiren ha perso posizioni solo 3 lapi per andare 3 lapi l'occasione che sto perdendo ragazzi no e anche Ralph davanti incredibile la macchina non va più buono dai pazzesco batton può vincere la sua prima gara in carriera mancano due giri e mezzo incredibile batton e incredibile Williams uh e se guidiamo come so me lo ricciuccio batton lo posso riprendere Jenson lo posso riprendere Jenson ma è l'ultimo settore raga la gara è molto tesa la gara è molto tesa ma è un bloccaggio pericoloso avevo perso tantissimo qua niente da fare l'ultimo settore è una chimera per noi oggi stiamo a fare batton vola vola Jenson eh Ralph ancora che rompe i maroni oh ma cosa fa? non ci credo second place you're in second place mamma mia che ho rischiato veramente il ciao comunque non vinciamo non vinciamo potevamo approfittarne di Akin che non sta andando benissimo Akin è in terzo bruttissima bruttissima notizia incredibile batton in fuga you've dropped into P3 P3 second place you're in second place devo stare davanti all'Akin devo rosicchiare ad Akin you've dropped into P3 P3 dobbiamo fare Akin e rompe i maroni oggi non ci credo second place non ci credo you've moved down the order you've moved down the order you're down to P6 you're falling down the field that's us into P8 now non ci credo beccato Akin ci siamo toccati Dio Cristo perdo anch'io incredibile pazzesco perde punti Akin non prende punti nessuno dei due ma va bene a lui guarda qua pazzi ma cosa fa ragazzi facciamo anche l'Ungheria perché sono incazzato nero veramente cioè siamo sempre a quattro punti da Akin per fortuna c'è che ne da bagarre stesso il filimondo e io ho tentato di superare Akin in ci siamo toccati il problema è che per come eravamo messi potremmo recuperare tantissimo addirittura superare invece un disastro comunque Kurt Tarpol secondo Barichello Akin in quarto noi quinti siamo in un momento difficile il problema è che come la realtà MagniCour per fortuna avrebbero salati i secondi perché Shisumi ha fatto MagniCour ha uno ring e Okina ha i ritiri però due ritiri qua nella fase stiva della stagione non è positiva solo ripiove anche per fortuna no e niente raga speriamo di fare qualche punto perché siamo in crisi nerissima e a meno due dracostruttori quindi siamo sconfitti in tutto per il momento Doppio ritiro in due gare no parole non ho parole ho mi**tato via due gare vai raga we're in anti stall clutch in and build some rebs macchine davanti a me lo superarlo subito mica clutch out we're green mhm partenza va lordissima devo buttarmi qua l'acchina è lento anche l'acchina è lento second place you're in second place il cume è furioso il cume Shisumi è furioso siamo già primi you're leading the pack P1 se la macchina magari non mi dà problemi in curva grazie di rabbia veneziano comunque la polpi porta sfiga se devo parlare poco ragazzi e e guidare bene perché mi sono rotti i marroni di ritirarmi è un momento bruttissimo della stagione veramente furioso anche nelle quinto è furioso veneziano è furioso veneziano no no ancora 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 trulli fuori incidente comunque a okina in doppietta Williams eh button prima vittoria in carriera e ralph secondo complimenti alla Williams BMW yellow flag yellow flag anche Salo fuori per incidente doppio ritiro in un minuto è veramente furioso veneziano oggi eh vedero della rosa i box Verstappen ai box oltre a stare già rosicchiando qualcosa concentrazione massimale come voglio la massimale adesso però ecco ultrar sta arrivando ma cos'ha la macchina che dopo due giri non sto guidando male oggi perché prensa e mamma mia sta succedendo di tutto oggi guardate un attimo ragazzi è successo qualcosa di inquietante sono le due di notte che sto registrando ed è partita avete capito chi che se lo dico ma rimi riparte cantandomi una canzone di sfera e basta poi che non ascolto mai cioè che per carità di dia veramente c'è l'antimusica non so è partita così siamo cagati addosso la mia amorosa dormiva non perdiamo la concentrazione barichello secondo ho perso il ritmo però ho perso un po' il ritmo ah chi è l'interno sta recuperando mica che però il cubo è bello furioso oggi mamma mia ragazzi ho preso una scaga incredibile ce l'ho sentita con le cuffie Alexa e registrando non ho parole e mi fai passare o no? ma c'è la regola di doppiaggio? no perché e posso passare? grazie dobbiamo vincere questa mi voglio la doppietta Ferrari anche per la costruttore sarebbe fondamentale e che serve una vittoria di classe per tornare in corsa yellow flag ancora yellow flag ancora bello della rosa mi sta rallentando barichello godo dai dai due giri vediamo bene il video concentra concentrazione abbiamo anche la migliore velocità di punta raga è grande grandi oggi super michael schumacher manca l'ultimo giro per il kuma questo è il tuo final lap final lap della rosa che può arrivare una grande doppietta oggi sono concentratissimo ragazzi scusate ma pianino non serve rischiare come la prova ricale è vicinissima adesso ho rallentato un po' troppo ultima curva e il kuma torna a vincere il kuma torna a vincere alla grande yes ragazzi andiamo a vedere la classifica parlo prima perché sono le due un quarto vediamo veneziano schumi 65 meno 2 achinen e barichello sta rientrando di brutto e quindi mondiale incredibile comunque che culto di 648 punti grandi le williams che stanno facendo una grandissima stagione 27 ralf 15 batto 12 frenze 10 villene giancarlo fisichelle zonta 5 turni 3 verstappen 2 dinitz 2 salu wurz 1 costruttori torniamo davanti 118 ferrari 111 mecclare 42 williams 17 jordan 15 bar 6 venetton 3 sauber 2 arros per la stagione per la stagione veneziano schumi dominano con 5 achinen 4 barichello 2 e button una vittoria ferrari 7 vittoria mecclaren 4 williams 1 pol totali sempre veneziano schumi 5 achinen 4 barichello 2 cultar 2 ferrari 7 a 5 in su 12 gare 5 vittorie 5 pole 7 podi e 3 ritiri raga saluto dal comandone veneziano mondiale meraviglioso ciao